cari amici tanti saluti da Serafino Massoni oggi è lunedì 22 novembre 2010 vedete il titolo del video donna vampiro donna vampiro vedete vedete questa è uno dei tanti ritratti della gorgone medusa la medusa gorgone orribile orribile ci ha pensato un grande eroe greco ad eliminarla un grande eroe perseo perseo ci ha pensato lui guardate che spettacolo donna vampiro orribile orribile vabbè questo video poteva intitolarsi anche vagina dentata vagina dentata cari amici vagina dentata donna vampiro sangue sangue va bene cari amici adesso l'avete vista l'immagine della gorgone medusa e poi ne parliamo con calma guardatela bene cercate di non impressionarvi troppo questo fa parte dell'immaginario dell'immaginario collettivo maschile 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 quando quando i maschi i uomini eliminarono il matriarcato e allora è per senso di colpa avendo compiuto una cosa brutta brutta e hanno immaginato il matriarcato sconfitto come composto tutte da donne di questo tipo donne vampiro e ancora oggi è resiste nell'immaginario collettivo la donna vampiro è la la vagina dentata cari amici la vagina dentata eccolo qua va bene va bene cari amici ecco anche questo video anche questo video e si basa sulla sollecitazione di un amico blogger e questa è una tv pubblica on demanda credo che sia l'unica al mondo fatta in questa maniera credo è ci sono 1700 1800 video tutti basati su on demanda on demand va bene eccolo qua l'amico che mi scrive eccolo qua guardatelo qua vedete io lo chiamo dario di nome e gemini di cognome ma lui è invece gemini 060606 e mi da un articolo particolare un articolo particolare dove si parla delle donne le donne le donne dell'antichità ma ma anche del medioevo è che fanno le vampire fanno le vampire fanno capito e fanno le vampire perché la storia chi è che la vince e chi è che la scrive la la storia cari amici chi è che la scrive la scrivono i vincitori la storia è sempre stata scritta dai vincitori e tanti mi dicono eh ma mancano mancano le documentazioni scritte sul matriacchiato è certo che mancano le documentazioni scritte certo e il vincitore ha eliminato tutto ma è naturale che sia così e che c'è rimasto qualcosa degli etruschi cari amici non conosciamo neanche la lingua degli etruschi e perché gli antichi romani hanno fatto tabula rasa hanno sconfitto gli etruschi di cui romani erano culturalmente i figli e hanno eliminato tutto pensate che conosciamo l'alfabeto dell'antico egitto e non conosciamo l'alfabeto degli etruschi che stavano lì a un tiro di schioppo da 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 roma c'era a roma il tevere era diviso in due parti c'era la sponda romana e la sponda etrusca perciò c'erano gli etruschi stavano dall'altra parte del tevere pensate un po voi lo sapete chi tra i primi sette era di roma e parecchi furono etruschi e lei dice ci stanno mi dicono non ci stanno le documentazioni mi dicono i ragazzi non ci abbiamo niente di certo ma come non ci abbiamo niente di certo se ancora sulle cose dell'altro ieri ci abbiamo le incertezze sulla Shoah per esempio cari amici che è successa l'altro ieri la Shoah tra il 1940 e non ci sono quelli che dicono che non è successa cari amici cari amici e quando mi dite che non ci sono documentazioni sul 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 matriarcato mi fate tanta tenerezza cari amici ma la storia la storia la stimano i vincitori e mica la stimano i vincitori e mica la stimano i vincitori la storia la stimano i vincitori e ora vediamo un po cosa è questa storia della donna vampiro la donna vampiro guardate gli uomini quanto l'hanno dipinta male la medusa gorgone guardatela qua che spettacolo ve la sposereste voi una donna come questa guardate che roba cari amici e vabbè dobbiamo andare lontano dobbiamo andare e in fin di conti io devo sempre farmi vedere questo romanzo storico mitologico perché la musica non cambia mai cari questo canale cari ve lo ricordo si basa su questo romanzo storico mitologico cari amici e qua che è descritto per bene per filo e per segno come si suol dire il passaggio dal matriarcato al patriarcato e allora quando gli uomini sconfiggono le donne a momento non è che fu una battaglia una guerra uno scontro di civiltà sì sì fu proprio uno scontro di civiltà cari amici che durò secoli e secoli e mica è durato mica è stata la battaglia di austerlitz il sole di austerlitz mica è stata la battaglia dei piani ma è stato uno scontro di civiltà che è durato chissà quanti secoli c'è stato poi l'interregno l'interregno prima che avvenisse il definitivo passaggio dal matriarcato al patriarcato c'è stato un lungo periodo di interregno dove il potere gestito in contemporanea tra uomini e donne e coesistono ancora coesistono il diritto materno e il diritto paterno ma già già nelle tragedie degli scrittori tragici greci Eschilo, Sofocle, Euripide noi vediamo che c'è tanta incertezza al confronto del diritto i giudici ancora non sanno come regolarsi esattamente se dare più importanza al diritto materno o dare più importanza al diritto paterno è stato un passaggio lento 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 per esempio c'era già il dio ebraico Yahweh c'era già il dio ebraico Yahweh tutto maschile e tutto invisibile no? invisibile come il pensiero la potenza la potenza celeste il padre eterno celeste e poi dopo il trionfo del patriarcato vero e proprio che avviene col cristianesimo incredibile vero? che dice ma c'è il Vangelo di Gesù ma il Vangelo di Gesù povero Gesù povero Gesù di cui Nietzsche scrisse è esistito un solo cristiano e quello l'hanno messo in croce e il cristianesimo trionfante ai tempi di Costantino di Teodosio che cristianesimo è? ma c'è poco a che vedete quei Vangeli cari amici il Vangelo di Gesù è come la ciliegina la ciliegina che si mette sulla torta la torta è tutta la filosofia platonico aristotelica e sopra questa filosofia platonico aristotelica ci viene messa la ciliegina dei quattro Vangeli capito? bene purati tra l'altro e di seguito e qui abbiamo l'eliminazione delle donne l'eliminazione definitiva delle donne ma a livello continentale o intercontinentale perché l'ebraismo è sempre rimasto lì confinato nella terra di Canaan invece con il cristianesimo abbiamo una bella espansione il patriarcato con il cristianesimo e si impone a livello continentale o intercontinentale perché il cristianesimo dei primi secoli è già ben espanso in Europa, Roma, in Asia, sì sì anche in Asia, sì sì quanto cristianesimo ci fu in Asia fino all'Armenia ma fino alla costa occidentale dell'India, la costa del Malabar dove secondo alcuni Vangeli non riconosciuti ufficiali si rifugiarono Gesù, Giuseppe Maria e San Tommaso dopo la crocifissione, la crocifissione non avrebbe portato alla morte di Gesù perché non tutti i crocifissi morivano e gli fu curato e poi pensò bene di andarsene in Oriente dove tra l'altro c'era già stato da giovane con le carovane lungo la via della Seta e via di seguito la via delle spezie e aveva imparato il buddhismo e c'era un quanto cristianesimo che c'era nell'Africa, tre continenti, tutta l'Africa settentrionale, l'Egitto in primis poi buona parte dell'Asia e poi l'impero romano e lì si impose il cristianesimo nella sua forma autoritaria del platonismo, la distinzione tra i due mondi e dell'aristotelismo va bene? E le donne vengono cacciate via definitivamente dalla funzione sacerdotale quello che non era riuscito a fare il paganesimo patriarcale fu fatto dal cristianesimo con tutto rispetto parlando, che nel mondo greco-romano con gli dei falsi bugiati c'erano ancora le sacerdotesse, c'erano i collegi sacerdotali di donne, i collegi sacerdotali femminili e le sacerdotesse dalle varie dèi erano pari grado, pari grado dei sacerdoti dei vari dèi. Poi quando si impone definitivamente il cristianesimo, che altro non è che una manifestazione dell'ebraismo, spariscono le sacerdotesse, spariscono, sì ci sono le suore, ancora oggi ci sono le suore, ma le suore non sono pari grado dei sacerdoti, capito? Non gestiscono i sacramenti dei suori, capito? Sono solo i sacerdoti, i maschi che gestiscono i sacramenti vabbè dovremmo aspettare la riforma protestante perché poi col tempo arrivino anche le sacerdotesse ma nel mondo cristiano-cattolico di Roma, Roma, tu via 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 via, fin dall'inizio via via via, niente sacerdotesse. Ecco è chiaro che poi i vincitori, i vincitori, cioè i patriarchi, perché guardate che i cosiddetti eroi, gli eroi dell'antica Grecia erano semplicemente i patriarchi, i fondatori del patriarcato, gli eroi erano loro, Ercole era un patriarca che andò a combattere contro i punti forti del patriarcato che erano i templi, i templi dove c'era il culto di una qualche tea, lì c'erano i fedeli e tra i fedeli non c'erano mica solo le donne, c'erano pure gli uomini. Le sacerdotesse del culto delle varie dee, le dee madri erano donne ma i fedeli erano uomini, i patriarchi e piano piano Eracle, Eseo, Perseo, Bellerofonte, Sisifo e che più ne ha tutti gli eroi della mitologia greca, invece che di eroi, sì sono stati chiamati eroi perché non si doveva specificare qual era la funzione di questo loro eroismo. Tutti questi eroi non fecevano altro che andare a combattere contro i culti delle dee, dappertutto c'erano i culti delle dee, gli eroi piano piano li eliminarono tutti i culti. Quando noi sentiamo che Perseo va a combattere contro le gorgoni ed elimina la medusa con quello stratagemma dallo specchio, andate a vedere poi su Wikipedia, andate a vedere Perseo, medusa e va a combattere, vedete come viene rappresentata, questi sono stati i mitografi greci a rappresentare la medusa orribile, come nel medioevo si rappresentavano le streghe, belle donne le streghe, belle donne cari amici, belle donne le streghe, altro che brutte donne, forse troppo belle. Le streghe erano come le sacerdotesse del mondo mediocale, quella che mette nel medioevo, se ne andavano nelle selve, vivevano da soli, facevano l'amore con chi passava e studiavano le erbe, per esempio, queste erano le streghe, studiavano le erbe, vivevano pure quei serpenti, guardate un po' che roba, ma per carità, ma per carità. Ora è chiaro che se il vincitore elimina pretestuosamente il potere di quello che lo sconfitto, in questo caso il matriarcato, poi ci sono dei sensi di colpa e allora si deve giustificare l'aggressione da parte dei patriarchi contro le matriarchi, lo si deve giustificare in qualche maniera e quindi gli storiografi patriarcali hanno detto che quello delle donne era un potere orribile, un potere orribile, orribile, le donne, le matriarchi, le sacerdotesse delle grandi dee, che avevano un culto memorabile, erano mostri, mostri da eliminare, capito? Ci rifacciamo anche al mito di Lilith, la prima donna, la prima donna del Vecchio Testamento, Lilith, la prima donna vampiro è proprio Lilith e viene descritta come una donna vampiro, come una grandissima prostituta per il semplice motivo che non voleva stare sotto, Adamo, quando facevano l'accoppiamento, il coito e lei non voleva stare sotto, non è che volesse stare sempre sopra, ma Lilith diceva, abbiamo pari dignità, no? Siamo stati creati dallo stesso Dio, facciamo un po' per uno, Adamo no, Adamo voleva che Lilith fosse sempre sottomessa, cioè che stesse sempre sotto, allora Lilith se ne andò per i fatti suoi, i francesi dicono fece la valigia e lo lasciò solo e lui piangeva, ah poi se ne andò per conto suo a far l'amore alla grande, in un piccolo lago lì della terra di Cana, mi pare il mar morto, mi pare, se ne andò lì a fare la bella vita, se ne andò a fare, capito? La donnina allegra, Lilith, e Adamo si è misa a piangere, come fanno pure oggi i mariti e quando le mogli se ne vanno o le mogli se ne vanno o le mogli li cacciano via di casa, i fuchi, i fuchi, via, e si mette a piangere, capito? Non c'era più di solo solo, si rivolge a Dio solo, allora Dio dice, ah io, io Dio quando ho fatto Lilith, eh ho sbagliato, perché l'ho fatta con pari dignità, adesso la faccio io Lilith, la faccio in maniera che sia sottomessa ad Adamo, per cui Dio, Yahweh, quando Adamo dormì, lui andò lì, Yahweh, gli tirò fuori una costola e dalla costola plasmò Eva, è chiaro che uscendo da un uomo Eva doveva essere sottomessa, Eva era la donna sottomessa, patriarcalizzata, e questo passo qua del passaggio da Lilith, la prima donna aveva la seconda donna o la seconda moglie di Adamo, è stato cancellato dal Vecchio Testamento, dal libro Genesi, ma c'è, 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 in tanti midrashim, tanti midrashim, quanti midrashim, e poi viene citato pure da Dante Alighieri, una divina commedia, Dante Alighieri chiama Lilith, la chiama Lilith lussuriosa e la mette nel canto dei lussuriosi all'inferno, i lussuriosi vicino a Semiramide e via di seguito. Quindi le donne vengono descritte dal patriarcato vincitore, dagli storiografi, e vengono definite come dei diavoli, e se no come la giustifichi? La giustifichi la sottomissione, la distruzione del patriarcato, e guardate bene che questa operazione, tanto per stare nel mondo greco, in altri posti, sarà avvenuta con modalità diverse, ma stiamo nel nostro mondo, il nostro mondo è quello dell'ebraismo, è quello del cristianesimo e anche quello dell'islamismo, perché l'islam ci attacca all'ebraismo proprio come il cristianesimo. Pensate voi che questa operazione di eliminazione delle sacerdotesse, delle grandi madri, che poi verranno raffigurate in questa maniera, avviene tra il 1200, insomma un po' prima del 1200, un po' prima del 1200, va bene? E pensate che quando si compie, ed è così lunga questa operazione, dura quattro secoli, l'operazione, le vicende degli eroi, le vicende degli eroi, però che altro non sono che i patriarchi, che vanno contro il culto dalla grande madre e sistematicamente distruggono i culti, distruggono i templi, questa operazione di distruzione da parte dei patriarchi della cultura matriarcale dura 400 anni, infatti dal 1200 a.C. sino all'800 a.C. c'è il periodo che noi chiamiamo medioevo ellenico, di questo medioevo ellenico non ci sono tracce, non ci sono scritti, non c'è nulla. I patriarchi, gli eroi, erano impegnati semplicemente a distruggere il culto religioso della grande madre, ce n'erano tanti, disseminati dappertutto, e le sacerdotesse erano impegnate a resistere contro l'assalto del patriarcato. Di questi quattro secoli non abbiamo documentazione, pensate voi quanto sono lunghi quattro secoli, lo chiamano il medioevo ellenico, poi tutto torna a nascere con Esiodo ed Omero, che sono i primi grandi mitografi del patriarcato vincente. Fin di conti è Esiodo che fa la prima cosmogonia e poi Omero. È vincente il patriarcato e scrive la storia. Dal patriarcato vincente la storia viene scritta tramite Esiodo e D'Omero. Poi verranno i tragici greci. Hanno vinto, hanno cancellato tutto quello di matriarcale, tutto quello che di matriarcale c'era. Hanno avuto quattro secoli di tempo per cancellare tutto. Però la vittoria risente ancora di antiche vicende matriarcali, per cui come vi ho detto prima, quando arriveranno le tragedie greche, Eschilo, Sofocle, Euripide, voi vedete, toccate con mano che ancora i giudici quando vogliono fare la giustizia, mettere le sentizie, sono lì dilaniati ancora tra diritto materno e diritto paterno perché è ancora rimasta qualcosa, qualcosa ancora rimasto non come scritto ma come tradizioni che ancora esiste di generazione in generazione. In ogni caso gli uomini scrivono la storia, la scrivono loro la storia. La mitologia greco-rumana altro non è che la storia del mondo matriarcale però scritta dai patriarchi i quali l'hanno deformato tutto il matriarcato e l'hanno dipinto in questa maniera. I mostri sono quasi tutte donne. Eccola qua, la Gorgone Medusa, guardate qua che spettacolo, va bene? Tutte donne, i mostri sono quasi tutte donne, chissà perché, è certo, la donna vampiro, la donna che ti succhia il sangue, va tenuta al bando, va tenuta al bando la donna. Ma guardate che qua si assomigliano tutti i miti, miti ebraici, miti cristiani, miti greci. Se nella mitologia ebraica è una donna, Eva, quella che rovina Adamo, la mela, vi ricordate, non la mela? Nel mondo greco non c'è forse Pandora che rovina l'umanità? Perché Pandora apre il famoso vaso, stava tanto bene l'umanità. Prima che Pandora compisse quell'errore di aprire un vaso, gli era stato affidato dagli dei, dice tu Pandora custodisci questo vaso, però non lo aprile mai. La mitologia dice, era curiosa, Pandora, no? Tanto curiosa, una donna, tutto curiosa, apre ed escono tutti i mali, tutti i mali, escono tutti i mali, tutti i mali, tutti i mali del mondo escono dal vaso di Pandora. Pandora richiude il vaso e c'era rimasta dentro solo una cosa. Poi gli dèi gli dicono, vabbè, riaprilo, ormai a questo punto i mali sono usciti tutti ed è uscita la speranza, è uscita la speranza, pensate un po' a voi la speranza. Fede, speranza e carità. La speranza è il tempo, ecco. Quindi la donna, Pandora, rovina l'umanità, Eva rovina l'umanità. Questa è la storia, cari amici, ma è la storia patriarcale, sono stati gli storiografi patriarcali a scrivere queste cose. E poi la faccenda continua, ripeto, col cristianesimo, il cristianesimo che bandisce le donne dal sacerdozio, capito? All'euro. L'operazione definitiva avviene col cristianesimo, le donne sono eliminate dalla gestione dei sacramenti e nel Medioevo che succede? È la stessa cosa. Nel Medioevo, pensate che le streghe del Medioevo ve le dipingono tutte così. Se invece andate a fare degli studi approfonditi, trovatele da qualche parte, che invece erano tutte belle donne, ma che belle, come probabilmente erano le sacerdotesse della grande madre, chissà che belle donne che erano, e anche le streghe sono dipinte tutte, le streghe, la streghe, no, tutta mostrua, le donne invece sono le streghe, furono le grandi terapeute del Medioevo, dei secoli bughi, e in pratica gran parte dell'anglicina contemporanea dei servizi sanitari e sociali si basa sulle sperimentazioni di erboristeria che fecero le streghe nel Medioevo, erano le streghe che dispensavano, diciamo così, la salute, e venivano eliminate. Perché le streghe si appartavano nei boschi, certo, perché dovevano raccogliere le erbe, studiare gli effetti delle erbe, certo che andavano nei boschi, stavano nei boschi, ripeto, le streghe, poi non c'avevano tanti pudori, non c'avevano, c'erano i viandanti che passavano, stavano un po' insieme, poi la strega datava certe terapie, certe cure a base di erbe, i viandanti lasciavano un po' delle monete d'oro, e la streghe era la caccia alle streghe, è durata fino a non molto tempo fa, cari amici, andate a vedere, le streghe di Salem, negli Stati Uniti, Salem, andate a vedere che razza di situazione, le streghe di Salem, una cosa abbastanza recente, storicamente parlando è una cosa recente, ecco caro amico, caro amico Dario Gemini, la donna, eccola qua, eccola qua, così, così nell'immaginario collettivo maschile viene rappresentata la donna, capito, così, così, per venire i sensi di colpa, i nostri sensi di colpa, anche oggi è così cari amici, cosa si dice a una donna, a un marito, sei una strega, sei una strega sei, e vabbè cari amici, se a voi, a qualcuno non gli va bene, le donne, non ci vada con le donne, non si sposi, non è mica un obbligo sposarsi o convivere, se voi pensate, se qualcuno ha paura di andare a vivere con una strega, o che sua moglie, la sua compagna dopo qualche anno si trasformi in una strega, vabbè, si sanno in anticipo queste cose, uno non forma la famiglia, né dei uri né dei fatti, dice come fa però, come fa, come fa a stare senza una donna, beh, se pensa a una somma algebrica di quello che può avere di buono e di cattivo da una donna che gli considera una potenziale strega, se fa la somma algebrica si accorge che può fare benissimo a meno, non ci avete mai complicati cari ragazzi, bisogna pensarsi prima le cose bisogna pensarci, va bene, ecco, comunque questo rappresenta, bene, l'immaginario collettivo maschile, di come l'immaginario maschile vede le donne, le vede così, il nostro immaginario, le streghe, sei una strega, sei una megera, una megera, e torniamo alla mitologia greca, megera, megera, anche quella ok, quindi, donne vampiro, cioè donne che ti succhiano il sangue, donne che sono capace pure di andare a fare l'amore col demonio, nella notte di Valpurgia, Johann Wolfgang Goethe, fausta, 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 un grande romanzo, il fausta del Goethe, è un grande poema, due parti, la prima parte è il mondo medievale, tenebroso, romantico, e la seconda parte invece è il mondo classico, nella prima parte del Goethe c'è Margherita, Margherita, che è la donna sottomessa, nella prima parte, nella seconda parte invece si va indietro nel mondo classico e c'è Elena, Elena la protagonista, Elena che non è stata ancora del tutto patiracalizzata, e fa come si dice Roma di comodacci sua, e nei sabba, nei sabba, nei sabba, le streghe vanno a baciare il demonio, ma non lo vanno a baciare in bocca, le streghe, le streghe, scusatemi, lo vanno a baciare nell'ano, nell'ano, è così, il bacio al demonio, è il bacio nell'ano, le streghe, e poi vengono rappresentate le streghe che furono sulla scufa, ma brutte, sono rappresentate brutte, sono rappresentate brutte, sono rappresentate, invece erano così belle, donne così belle, erano belle, intelligenti, troppo intelligenti per stare nella normale società patiracalizzata, cristianizzata, ebraizzata, islamizzata, e vi dicevito, è proprio delle streghe, e quando gli inquisitori le interrogavano, volevano sapere se avevano goduto col demonio, volevano sapere tante cose su come si comportava sessualmente il demonio, perché erano curiosi, capito, gli inquisitori, volevano sapere che tipo di potenza sessuale aveva il demonio, e magari erano pure invidiosi, perché dicevano guarda un po' il demonio che è bella, belle donne che sei goduto, invece noi dobbiamo stare qua a fare gli inquisitori. Va bene, va bene, cari amici, ecco, vi lascio con quella, con questa raffigurazione della gorgone medea, che rappresenta un po' la donna, come se la immagina l'immaginario collettivo maschile, maschile, cari amici, maschile. Va bene, va bene, cari amici, grazie all'amico Dario Gemini, grazie a tutti voi, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.